Posso dire a un cristiano che sbaglia? E se è un sacerdote? Di Pierfrancesco Nardini. La critica costruttiva e determinata verso ogni errore sulla dottrina cattolica, da parte di ogni singolo membro della Chiesa, sacerdote o laico, quindi anche della gerarchia fino al grado più alto, è necessaria ed inevitabile. Si mancherebbe un preciso dovere. Le modalità, le forme di questa critica però non possono che essere basate sul rispetto. Se questo vale per ogni persona con cui si discute, a maggior ragione deve valere se l'interlocutore ha una carica più o meno importante. Una spiegazione molto chiara la fa dire The Wall a Santa Caterina da Siena. Un sacerdote può essere inadeguato, può essere un uomo votato al male, tuttavia è attraverso le sue mani che riceviamo il corpo e il sangue di Gesù. Quindi dobbiamo rispettarlo. L'aggressività esasperata e o l'uso di un linguaggio troppo forte in queste situazioni, purtroppo molto frequente, comporta più problematiche che vantaggi. Diventa controproducente. Quando si discute si deve sempre pensare all'efficacia che hanno le nostre parole sull'interlocutore. Un tono forte a volte può essere utile, anche più efficace. Non deve però diventare eccessivo, rabbioso, addirittura offensivo. Sia che si parli con un sacerdote, sia con un fedele. Si sentono molto spesso invece toni e parole irrispettose, oltraggiose, rivolte alla gerarchia della Chiesa. Ci si chiede quale effetto possono avere, quale efficacia. Il rischio di far allontanare l'interlocutore invece di avvicinarlo è grande. Se questo è confuso o pensa in modo errato sulle verità della fede, se è aggredito o preso in giro, o se sente parole forti o addirittura insulti contro il papa o un sacerdote, non si avrà di certo l'effetto di fargli capire ciò che anche di giusto si vuole dire e denunciare. Se invece con modalità ferme sui principi, ma rispettose della persona, ma soprattutto della carica che ha, proviamo a spiegare, spostiamo l'attenzione sull'oggetto. Errori e problematiche, crisi e non sul soggetto. È quel che si dice con fortiter in re, suaviter in modo. Monsignor Lefebvre ha ammonito che è nostro dovere fare di tutto per conservare il rispetto della gerarchia e saper distinguere fra l'istituzione divina alla quale dobbiamo rimanere attaccati e gli errori che dei cattivi suoi membri possono professare. Dobbiamo fare tutto il possibile per illuminarli e convertirli con le nostre preghiere e con un esempio di dolcezza e di fermezza. Non si cade allora nell'equivoco di pensarci bravi apologeti, ottimi disquisitori sulla crisi, solo se alziamo i toni, se si controbatte in modo scomposto o troppo forte. Teniamo a mente che noi stessi non saremo attratti da un linguaggio aggressivo, ma da uno assertivo. Non dall'attacco alla persona, ma dalla confutazione motivata di quel che dice. Non dallo sbilanciarsi sul foro interno, ma sul foro esterno. Infine, non si deve pensare che suaviter significhi una mielosa, blanda e quindi insensata contrapposizione, né una forma di complicità. È solo il tono, la forma del foro inter, della ferma e precisa confutazione degli errori.